Sulle bollette dell'acqua con gli importi gonfiati dalla nuova tariffazione e dai conguagli retroattivi imposti dal legislatore, Aset ci ha messo la faccia, ma il sindaco ci mette una bella pezza. Seri sulla questione entra a gamba tesa dopo che l'efficienza e la precisione dell'azienda rischiano a poche settimane dal voto di trasformarsi in un boomerang elettorale che si stampa dritto in faccia al candidato sindaco in corsa per il secondo mandato. Il conguaglio retroattivo, dice chiaramente Seri, è una vergogna bella e buona. Fermo restando la validità del provvedimento per una questione di equità tra fasce della popolazione e rispetto delle risorse idriche, dice un contrariato sindaco, chiedere il conguaglio di tutto il 2018 in un'unica bolletta è una vera porcheria. Per questo, come la legge mi consente di fare, ho chiesto ad Aset, d'Imperio, di adottare contromisure per venire incontro a quella parte di popolazione mono e bifamiliare residente, spesso anziani pensionati o vedovi, sui quali è ricaduto quasi totalmente il peso di questa nuova disposizione a livello nazionale. In realtà le bollette che sono arrivate non sono l'aumento dell'acqua, sono il conguaglio che hanno inciso in modo molto pesante dal 1 gennaio 2018, che è una scelta dell'autorità nazionale. Con il mio intervento ho dato disposizione ad Aset, sulla quale, devo dire, già ci stavano ragionando onestamente. Primo, che viene procrastinata la scadenza per tutti i nuclei da 1 e 2 persone dal 30 maggio. 2, direttizzare fino a 6 rate il conguaglio senza alcuna spesa, senza alcun interesse. Inoltre verrà istituito un ulteriore fondo, oltre a quelli che è Aset, un fondo di 50.000 euro per andare ad aiutare coloro che hanno avuto un conguaglio molto alto, ovviamente basandosi anche su quella che è l'Isee e le situazioni particolari, fino a un contributo di 100 euro per bolletta. Seri nell'occasione respinge al mittente anche le considerazioni dell'opposizione che su questo boccone avvelenato ci si è tuffata a capofitto e che hanno puntato il dito anche sui rincari dovuti agli investimenti riversati in bolletta, ma che ammontano, dice il sindaco, confermando il dato presentato da Aset solo per il 3,5% su base annua, quindi calcolando una media di 400 euro a bolletta di spesa appena 13 euro. Ben altra cosa rispetto agli importi arrivati in questi giorni, dovuti esclusivamente quindi al conguaglio retroattivo. Gli uffici Aset pertanto restano a disposizione di quanti. A partire da domani vorranno chiarimenti su come usufruire di queste nuove agevolazioni create ad hoc per questa occasione.